Se siete in vena di complotti alieni con risvolti horror, vi segnalo su Netflix i due prodotti derivativi del manga Kiseiju, l'anime L'ospite indesiderato e la serie tv coreana La zona grigia. Due opere molto diverse tra loro, con ambientazioni, stile e protagonisti differenti. Il cartone consta di 24 episodi da 23 minuti ciascuno e comprende un arco narrativo concluso. La serie tv, invece, è composta da 6 episodi di circa 45 minuti e pur arrivando a una soluzione della storia ci sono delle possibilità per una seconda stagione non ancora confermata. Fantascienza e horror si mescolano in entrambi i prodotti e devo ammettere che spinto dalla serie a guardare l'anime ho trovato quest'ultimo più profondo e perturbante, al netto di qualche ingenuità vista l'ambientazione liceale. La zona grigia, invece, nonostante sia firmata dallo stesso autore del cult horror Train to Busan e della pregevole Hellbound, di cui abbiamo parlato già qui su mondoserie.it, non riesce a colpire in pieno il bersaglio, rimanendo una narrazione molto di superficie. Ma che cos'è Kiseiju? Tradotto letteralmente dal giapponese significa bestie parassite e indica una razza aliena giunta sulla terra allo scopo di infiltrarsi e progressivamente sostituirsi agli esseri umani. Il loro aspetto originale consiste in una sorta di piccolo baccello da cui si schiude una radice strisciante che entro pochi secondi della fioritura deve entrare all'interno di un orecchio per raggiungere il cervello del malcapitato, divorarlo e prendere il completo possesso dell'ospite. Nonostante la mimesi perfetta ci sono un paio di modi per riconoscere un parassita da un originale terrestre. In genere, gli alieni schiatta razionale e priva di senso dell'umorismo denotano un atteggiamento freddo e rigido. Sono sempre molto seri e quando tentano di sfoderare un sorriso riescono a essere persino più inquietanti. Poi, essendo degli organismi con una biologia differente, hanno solo appendici. Per cui, se si strappa un capello a un alieno sotto le sembianze umane, il pelo avvizzisce in pochi secondi. Altro piccolo particolare per poterli distinguere rispetto a noi terrestri, quando devono nutrirsi, i nostri nuovi compagni di stanza letteralmente srotolano la testa in una serie di tentacoli muniti di lame affilatissima all'estremità, utili per fare a pezzi la vittima di turno che non viene consumata interamente ma conservata in appositi silos. Perché buttare il cibo è peccato mortale. Infine, bisognerebbe dire che il piano di conquista di questi esseri superiori fa un po' acqua. Insomma, si prende possesso di un essere umano e ci si nutre di un altro. E se il piano andasse a buon fine e quindi tutti gli alieni riuscissero a sostituirci di chi si nutrirebbero? Poi. Ma forse sono io che mi faccio troppi problemi. Intanto conquistiamo la Terra. Potrebbero aver detto al briefing prima di spedirsi qui. Poi si vedrà. Chiudo subito la parentesi ironica. Sparare a zero su un'opera di fantasia che ha come assunto base una razza aliena con la testa che spregiona tentacoli artigliati, tacciandolo di poco realismo non ha senso. Kiseiju va considerata per altri punti, per il suo retroterra e per certe interessanti domande che fa sorgere. Nell'anime uno dei baccelli di cui sopra cerca di prendere possesso del liceale Shinichi Izumi. La pronta reazione del ragazzo però confina il parassita nel suo braccio destro impedendo la sostituzione del cervello. Inizia così la convivenza tra la bestia e il giovane. La prima fornirà forza, agilità e resistenza sovrumane rendendo il braccio occupato una portentosa macchina da combattimento. Il liceale invece insegnerà alla fredda mente extraterrestre i valori di amicizia e solidarietà. La serie tv o la zona grigia le permesse non sono molto diverse. La commessa John Suning è una ragazza sola che fa una vita a grama ed è talmente baciata dalla fortuna che nello stesso istante viene pugnalata morte da uno stalker e assalita dall'ennesimo baccello da un altro pianeta. Per una volta. Però la sfiga si volge al bene per guarire il suo ospite. Il parassita deve concentrarsi sulle ferite e quindi non può completare la sostituzione. John Suning quindi ritorna la ragazza di sempre anche se ogni tanto prende il sopravvento l'altra ospite simpaticamente ribattezzata Heidi che combatte con gli altri della sua specie tramutando metà del viso di Suning nel solito terribile tentacolo artigliato. Anche se raccontato così nell'anima e nella serie sembrano nulla di che Kiseiju ha una base di partenza interessante e dei risvolti che vale la pena considerare. Sul versante sanguinolento in Giappone esiste un intero filone body horror che ha portato le visioni di corpi mutanti, deformi, mutilati, deturpati a vere e proprie opere d'arte, per stomaci forti e menti che non si fanno intimidire dal perturbante naturalmente. Maestro assoluto di questo genere è Yunji Ito, artista che sfrutta lo stile manga per compiere opere inquietanti che travalicano l'orrore per arrivare al capriccio anatomico ma che finora ha avuto adattamenti anime assolutamente indegni. Il nostro corpo mutante è un oggetto misterioso, il rapporto con il nostro aspetto è conflittuale, i segni del tempo, le malattie nascoste, i mutamenti inarrestabili. Temiamo la nostra fisiologia perché ai più è sconosciuta, aliena. Esiste poi una rara malattia psichiatrica, largamente documentata, che è nota con il nome di sindrome di Capgras. Le persone affette da questo disturbo sono fermamente convinte che la gente che lo circonda, in particolare cari ma anche vicini o colleghi, siano stati sostituiti da repliche o impostori e tale ferma convinzione rimane anche se viene data prova contraria. Il primo film in cui questa patologia viene tirata in ballo è L'invasione degli ultracorpi, film degli anni 50 che è in comune con Kiseiju il tema del body snatch, ovvero la proliferazione di replicanti che vanno a sostituirsi ai normali terrestri. In questo lungometraggio, poi soggetto a svariati remake, la vita di una tranquilla cittadina americana viene sconvolta dall'arrivo di baccelli alieni che partoriscono repliche perfette dei suoi abitanti sostituendoli nel sonno. Solo un intrepido dottore riesce a scampare il pericolo e a lanciare l'allarme e la pellicola si chiude con un accorato appello agli spettatori perché tengano alta la guardia. I nemici sono tra noi e potrebbero essere chiunque. Anche i meno attenti avranno colto un intento propagandistico anticomunista. L'America di quegli anni era in pieno maccartismo e il famigerato comitato per le attività anti-americane teneva costantemente sotto la lente di ingrandimento gli autori di Hollywood. Un periodo poco felice per quel paese che culminò nella famosa caccia alle streghe che rovinò carriera e vita privata di tanti artisti. Questo messaggio politico impiega parecchi anni per ribaltarsi ma lo dobbiamo al genio di John Carpenter. Il dittico la cosa e essi vivono propone lo stesso tema ma con risultati molto diversi. Nel primo la minaccia incombente di questo alieno mutaforma capace di assumere l'aspetto degli occupanti di una isolata stazione meteorologica diventa la metafora lampante del clima di paranoia omicida che stava imperando negli Stati Uniti. Si temono attacchi da ogni parte e invece di studiare una soluzione al problema si procede con la sistematica eliminazione di ogni sospetto, una strategia fallimentare. In essi vivono il gioco si fa dichiaratamente politico. Gli occhiali del protagonista smascherano un mondo di messaggi subliminali, di elite economiche che pasteggiano sulla pelle dei cittadini ignari, di ideologie create per tenere soggiogata la popolazione. Potrebbe essere travisato come un film complottista ma mi sembra più adeguato definirlo come un originale misuglio di fantascienza horror con una coscienza critica. E due prodotti, Kiseiju, la politica però è appena scalfita. Nella serie gli alieni hanno formato una setta religiosa e già in Elbound il regista si era schierato contro la violenza della coercizione di massa dei movimenti religiosi. Qui però è semplicemente una copertura per i nostri mostroni. Avrebbero anche potuto formare un circolo della bocciofila e i risultati sarebbero stati identici. Nell'anime invece la cosa si fa più problematica. Dopo le prime puntate che si focalizzano molto sull'azione all'autore va riconosciuto il merito di spostare gradualmente l'attenzione della simbiosi del protagonista e dei suoi drammi alla effettiva necessità di dare un senso all'invasione aliena perché per quanto armati e temibili sono numericamente inferiori né tantomeno invulnerabili. Invadere una cultura poi significa anche inevitabilmente assorbirne le caratteristiche. l'impero romano in tal senso insegna. Quindi per quanto freddi e voraci anche tra i mostri si fanno strada sentimenti, compassione, empatia, persino sacrificio. In un paio di episodi poi mi sono ritrovato a solidarizzare con queste creature così potenti e temibili ma anche così naif da non comprendere che questo mondo non merita affatto di essere conquistato.